Conto la rovescia per Slime Fest, l'evento di musica e divertimento organizzato da Nickelodeon, il brand per ragazzi e famiglie presente in esclusiva su Sky, canale 605, di Viacom International Media Networks Italia in programma sabato 15 giugno. Dopo il grande successo dello scorso anno, la quarta edizione si terrà di nuovo a Mirabilandia, alle porte di Ravenna. Il parco divertimenti più grande d'Italia è un luogo amato da adulti e bambini e adatto al divertimento di tutta la famiglia, grazie alle sue attrazioni da Guinness dei Primati e alla nuova area Ducati World. Seconda edizione di Slime Fest a Mirabilandia, dopo aver fatto due edizioni all'Alcatraz siamo nuovamente in parco divertimenti all'aperto, quindi per noi è la grandissima occasione di festeggiare la fine della scuola per tutti i ragazzi e la festa più importante di Nickelodeon con lo Slime Fest. Siamo molto orgogliosi di questa partnership con loro e sarà un'edizione emozionante, straordinaria ma soprattutto piena di slime. Il 15 giugno a Mirabilandia, Nickelodeon Slime Fest, non mancate. La produzione dello show quest'anno è affidata a Federica Carta che oltre a presentare si esibirà sul palco. Sono molto emozionata, mi fa un po' strano pensarmi come presentatrice sul palco, infatti non mi immagino, non lo so che succederà, probabilmente sarà un disastro e probabilmente no, però quello che so è che mi divertirò un sacco, quindi mi sento fortunata, sono grata che mi abbiano scelta, sono contenta anche di cantare così non mi sentirò totalmente fuori posto, però mi divertirò un sacco. Ricco il cast di artisti che si alterneranno di fronte al pubblico, Alessandro Casillo, Briga, Einar, Emma Buscat, Futuring Biondo, Matteo Marcus Boc, Mose, Shade e Thomas, inoltre a portare una grande carica di divertimento con litri e litri di slime ci saranno anche alcuni talent e creator tra i più amati e popolari per il pubblico dei ragazzi come Marco Cellucci, Ambracotti, Marta Losito, Elisa Maino, Valerio Mazzei, Sespo e Valespo e Valeria Vedovatti. Questo evento è molto bello, molto simpatico, anche se devo dire, sono sincero, che lo slime mi fa un po', mi fa venire un po' i brividi perché è un coso visci da tutto, però è un evento molto carino, simpatico, giocarelloso e sono super felice, insomma, poi canteremo quindi, yeah.